Siamo, è il momento. Sì, eccolo, eccolo. Ecco papà. Ma dove sei f***a? No. Quindi se stanno allacciati devo attaccare. Non ti alzare, eh? Non ti alzare, eh? No, no. No, ma attenta, chiamami la volta al giusto. Perché no? Tutte le! Ma io ci auguro. 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 No, no. Vedi? Dai! 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 Vieni! No, non è che la soccata. Vieni! 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 Perché non si è ruotare. No! 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 E quindi chiede una barca. Premi! Vieni! Vieni! grande 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 grande